Ma se io voglio mettere in affitto la mia casa o un appartamento che ho in gestione su Airbnb, che tipo di immagini devo realizzare? Posso farmele da solo? È meglio se mi rivolgo a un professionista? Posso farle con il cellulare? Nel corso di questo video andremo a dare risposta a tutti questi interrogativi. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Faccio questo video oggi in seguito a una moltitudine di richieste private che mi sono arrivate da diverse persone che mi hanno chiesto appunto ma io come faccio a realizzare delle buone foto di interni per un appartamento che devo mettere in affitto su Airbnb? Si tratta di una richiesta molto comune perché ormai Airbnb è diventata una cosa normale per cui ci sono diverse persone che mettono in affitto tramite questa piattaforma la propria abitazione o una casa che hanno in gestione e quindi sempre più spesso si rende necessario realizzare delle immagini che rendano giustizia a questo spazio in maniera tale da attrarre un numero maggiore di clienti. È evidente che su Airbnb la prima cosa che un cliente guarda è la casa in sé per cui presentarla al meglio è sicuramente importante ed ecco che il fotografo torna ad avere un ruolo principale anche nell'ambito delle locazioni degli affitti. Io continuo a ripeterlo, il lavoro come fotografo non è finito il lavoro di fotografo non è al capolinea, anzi non ce n'è mai stato tanto quanto ce n'è oggi. Il problema è che ci sono pochi fotografi che l'hanno capito e che se lo stanno prendendo tutto. Quindi nel momento in cui ci troviamo di fronte a questa problematica dobbiamo fotografare un appartamento. Che cosa facciamo? Chiamiamo un fotografo? Serve per forza una macchina fotografica? Possiamo farcelo da soli col cellulare? Andiamo per step. Cominciamo a vedere quelli che sono i consigli rilasciati proprio da Airbnb per realizzare delle foto che vadano bene per la piattaforma. Ovviamente il primo punto è quello di sistemare casa prima di fare le foto. Ragazzi, casa vostra può sembrarvi bellissima perché voi ci abitate e per voi è normale ma per una persona che la deve affittare non è normale come la utilizzate tutti i giorni per cui è necessario metterla in ordine. Non possiamo fare le fotografie degli interni lasciando una pila di scarpe all'ingresso per esempio. Non possiamo lasciare il vostro pallone da basket nell'angolo dietro il divano perché sono tutte cose che vanno a detrimento di quello che è l'ordine dell'abitazione. Ovviamente un pallone da basket lasciato in giro per voi che giocate a basket tutti i giorni e lo tirate su prima di uscire è normale. Ma per una persona o per una coppia o per una famiglia che devono venire ad abitare presso la vostra casa non è normale perché comunque un pallone da basket, fidatevi di me, ho giocato per tanti anni, non è pulito. Quindi lasciarlo in salotto vicino al divano, idem dicasi per le scarpe, le scarpe non sono pulite, ci si cammina in giro. Quindi tutto quello che può risultare non gradevole a una persona che deve venire in casa vostra è meglio farlo sparire. Questo non per ingannare le persone ma per avere delle fotografie che rendano al meglio. È una questione di marketing. In qualsiasi rapporto di marketing è evidente che la parte che deve vendere farà vedere solamente le cose migliori del proprio prodotto. Noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa. La cucina deve essere pulita in ordine, il bagno deve essere pulito in ordine. Ovviamente dobbiamo avere gli asciugamani piegati bene, le tende del soggiorno, del salotto devono essere sistemate, raddrizzate, non possiamo presentare la casa con... Mi è capitato diverse volte di arrivare e di trovare le tende tutte spiegazzate e addirittura macchiate con dei padellozzi. Ovviamente poi la richiesta è sempre la stessa. Ma tanto vengono via in Photoshop, vero? Andiamo per step perché se il lavoro lo fa un professionista magari vengono anche via in Photoshop. Certo, il professionista magari ci mette tre ore a togliere quelle macchie, a lisciare le tende forse vi conveniva lavarle prima perché quelle tre ore poi ve le addebita. Quindi è molto meglio avere una scena che vada già bene piuttosto che dover fare dei magheggi in post-produzione per ricreare una scena finta perché non era veramente così e ci abbiamo messo meno tempo paradossalmente perché abbiamo appaltato il lavoro a qualcun altro magari però abbiamo pagato il tempo di questo qualcun altro. Quindi forse ci conveniva lavare veramente le tende anche perché quando arriva veramente qualcuno che vi affitta la casa la palla da basket in salotto di fianco al divano la pila di scarpe all'ingresso e i padellozzi sulle tende comunque li dovete far sparire. Quindi tanto vale dare una riordinata generale subito. Secondo step, questa è una regola di base che vale anche per la fotografia di interni in generale. Ovviamente le foto andranno a essere scattate prevalentemente con luce diurna raramente si scattano foto di interni con luce notturna o luce crepuscolare perché è una situazione in cui la casa diventa più cupa, diventa più buia quindi noi invece vogliamo farla vedere luminosa perché una delle cose che una persona valuta quando deve affittare una casa è la luminosità magari se c'è una doppia esposizione insomma la gente vuole vedere la luce vuole vedere un ambiente chiaro e luminoso diciamo che magari non a tutti può piacere magari voi starete pensando a casa mia io ho le pareti nere non me ne frega niente della luce ok però le persone che affittano invece vogliono vedere una casa luminosa quindi è bene fare le foto di giorno e non solo regola generale che vale per la fotografia di interni in generale ma in particolare per la fotografia di appartamenti soprattutto per Airbnb visto che comunque lo riportano anche nelle loro linee guida accendiamo le luci le luci interne dell'abitazione tutte accese anche se è giorno anche se c'è già tanta luce e luci accese questo semplicemente per due motivi intanto perché le luci accese sono più belle da vedere in foto quindi questi puntini di luce dentro nella casa se ci sono delle bajour se ci sono delle luci di qualsiasi tipo vederle accese è più carino in foto e poi accendendo le luci magari andiamo a togliere un po' di ombre dagli angoli più bui della casa perché magari abbiamo la luce che entra da una finestra arriva fino a un certo punto se abbiamo delle luci nell'altro angolo accendiamo anche quelle andiamo a rendere tutto un po' più omogeneo idealmente dovremo stare attenti alla luce mista perché avremo la luce del sole che entra dalla finestra che sarà a 5400 gradi kelvin e avremo la luce delle lampadine che non sarà la stessa temperatura quindi in teoria dovremo andare magari a mettere dei gel sulle lampadine prima di fare il nostro scatto non vi dico di gelare la finestra perché a un macello ci vogliono dei gel enormi però se abbiamo poche lampadine magari possiamo pensare di mettere uno strato di gel colorato intorno per andare a bilanciare le luci dell'esterno con le luci dell'interno vero è che questa pratica sta diventando sempre più desueta non si fa più fondamentalmente non si fa più per un sacco di ragioni io vi dico le mie non si fa più primo perché porta via molto tempo e la fotografia di interni per privati perché stiamo parlando di Airbnb non è retribuita tanto cioè non è un lavoro per cui possiamo pensare di stare fuori una giornata intera a fare solo quello per cui per essere competitivi dobbiamo essere rapidi non abbiamo il tempo di fare quella cosa lì non abbiamo il tempo di fare le cose in maniera così certosina da gelare anche le lampadine o ancora peggio di gelare la finestra quindi di solito non si fa e si prende per buono il fatto che le lampadine interne hanno una temperatura colore diversa e quindi va bene così tutt'al più si può fare un minimo di correzione in post produzione io di solito vado a bilanciare il punto di bianco con una parete bianca se riesco a tenere le pareti bianche più o meno di solito ci siamo ovviamente non andrò a campionare la parete proprio dietro una bajur con una luce gialla andrò a prenderla in un punto medio che sta tra la finestra e la mia lampadina incandescenza così più o meno trovo un bilanciamento tra le due non è proprio una cosa ortodossa che andrebbe fatta perché bisognerebbe bilanciare i colori però ripeto per essere efficienti dobbiamo essere rapidi non possiamo stare lì tutto il giorno primo perché non siamo più produttivi così ci stiamo mettendo troppo a fare un lavoro che viene pagato tutto sommato poco e secondo perché non possiamo occupare casa del cliente per tutta la giornata i clienti si aspettano velocità questo sempre se siamo dei fotografi professionisti perché poi vedremo anche come si fa a realizzare questo lavoro in autonomia semplicemente con un cellulare a questo punto mi piace tantissimo come sapete io odio il formato verticale su mobile odio le stories odio i reels odio i tiktok perché? non perché mi sta sulle balle la piattaforma in sé mi sta sulle balle il formato vi spiego perché breve storia del cinema dovete sapere che quando nacque il cinematografo e successivamente si sviluppò la televisione quest'ultima stava avendo il sopravvento nel senso che per la gente comune stava diventando molto più comodo avere la televisione in casa propria e guardarsi le cose in salotto per cui a un certo punto cioè lo saprete benissimo perché succede ancora questa cosa un bel momento succede che uno si dice ma io perché? perché devo uscire devo andare al cinema a vedere una cosa quando posso vederne un'altra in televisione più o meno si equivalgono poi quella che c'è al cinema adesso poi arriva anche in televisione la gente si impigrisce lo sappiamo benissimo per cui che cosa accadde? il cinema senza fare grossi investimenti cercando di mantenere la tecnologia che aveva decise di cambiare il formato per cui si passò dal formato corrente che è quello televisivo mi sembra fosse 4 terzi originariamente si passò ai vari formati widescreen quindi il cinema per riguadagnare terreno sulla televisione decise di offrire al pubblico un'esperienza più immersiva per fare questo c'erano degli studi dietro ovviamente questi studi che cosa stabilivano? una cosa semplicissima se noi allarghiamo le braccia io non lo posso fare perché se allargo le braccia esco dallo schermo e non capite più però se io allargo le braccia mi metto a croce proprio e comincio ad avvicinare le mani a un certo punto le mani entrano nel mio campo visivo e saranno molto larghe quando entreranno nel mio campo visivo tipo io in questo momento le mie mani le vedo ovviamente non le vedo bene sono al margine del mio campo visivo ma io le mie mani le vedo quindi ho un campo visivo molto ampio avete già capito dove vado a parare se io metto le mani sopra e sotto io qui non le vedo già più le mie mani questo che cosa ci dice? che la nostra visione si sviluppa in orizzontale c'era uno studio dietro che era più complesso di come ve l'ho buttata giù io adesso ovviamente ci hanno perso del tempo questi signori perché c'erano tanti soldi dietro dietro a questo video che sto facendo io non ci sono tanti soldi per cui io ve la dico alla Carlona però c'era uno studio dietro hanno stabilito che la nostra visione si sviluppa in orizzontale come è perfettamente normale ci avete mai fatto caso che qualsiasi specie animale che cammini, nuoti o voli su questo pianeta ha gli occhi posizionati in orizzontale non esiste una specie che ce li ha in verticale sì i ragni che hanno quattro occhi ce li hanno messi per così ce li hanno in diagonale però è l'unico, tutti gli altri hanno gli occhi in orizzontale vi siete mai domandati come mai? perché l'orizzonte è orizzontale lo dice la parola stessa quindi sia che siamo dei terrapiattisti sia che siamo degli evoluzionisti o dei fruttariani non importa questa è una cosa che ci accomuna a tutti l'orizzonte è orizzontale e quindi noi siamo abituati a scrutare l'orizzonte è una cosa naturale perché siamo animali che si sono evoluti su questo pianeta su cui ahimè l'orizzonte è orizzontale per cui la nostra visione si sviluppa in orizzontale che siamo prede o che siamo cacciatori dobbiamo scrutare l'orizzonte per capire che cosa ci aspetta quindi la visione widescreen andava incontro alla biologia alla fisiologia dell'essere umano e anche di qualsiasi altra creatura però noi l'abbiamo fatto per noi stessi non certo per far vedere i film al nostro cane quindi veniva incontro a quella che era la disposizione dei nostri occhi le stories non vengono incontro alla disposizione dei nostri occhi le stories io faccio sempre questo paragone è come guardare una scena attraverso una porta socchiusa cioè io sto spiando sto guardando con un occhio solo perché non vedo bene attraverso una porta socchiusa quindi a me fa schifo quel formato per cui sono molto contento di dirvi che su airbnb si devono prediligere le foto orizzontali ah che soddisfazione finalmente si torna in un ambito un pochino professionale basta con ste foto verticali che oltre a essere brutte sono anche contrarie alla natura della nostra visione su airbnb le foto vengono visualizzate in formato orizzontale e ci mancherebbe perché su airbnb visto che anche lì ci sono dietro tanti soldi hanno fatto degli studi e hanno stabilito per esempio che un appartamento anch'esso si sviluppa in orizzontale e non in verticale a meno che non sia il bagno i bagnetti quelli piccoli quelli sono l'unica stanza che si fotografa in verticale perché in orizzontale si prende solo muro e poi c'è il bagnetto piccolo nel mezzo invece se lo si fa in verticale viene meglio ma è l'unica è l'unica stanza che si fa in verticale tutte le altre e si fa in verticale solo se si è costretti perché poi spesso e volentieri io cerco di fare orizzontale anche quella le verticali in fotografia di interni si si fanno ma proprio solo se si è costretti anche perché in una foto verticale ma fateci caso tirate fuori il cellulare inquadrate la stanza in cui siete lo vedete che state prendendo 30% di soffitto e 30% di pavimento e solamente 30% di stanza vera e propria avete buttato via due terzi del vostro fotogramma mentre se la fate in orizzontale bam avete tutta la stanza più o meno a seconda di quello che state usando comunque avete una porzione di stanza maggiore perché noi comunque in un appartamento avremo che ne so divano tavolo da pranzo finestra per cui se io la faccio in orizzontale piglio tutte queste tre cose il soffitto fa niente uno che vuole affittare a casa non guarda il soffitto guarda quelle tre cose lì se io la facevo in verticale prendevo soffitto divano cos'è che avevo detto e pavimento ecco beh c'è un divano in sta casa no il cliente la vuole vedere intera la stanza quindi bisogna fargliela vedere intera si fanno le foto orizzontali mi raccomando questo vale sia se chiamate un professionista se vedete che le fa tutte verticali fategli così sulla spalla e ditegli guarda che è per Airbnb e se le state facendo da soli col telefono invece ricordatevi di prediligere il formato orizzontale utilizzare la giusta risoluzione è importante ora Airbnb raccomanda di avere delle immagini che arrivino almeno a 1024x683 pixel quindi diciamo che si potrebbe prendere come riferimento il lato corto diciamo che dovrebbero essere dai via almeno 700 pixel di lato corto questo non dovrebbe essere un problema perché comunque un iPhone qualsiasi ha 12 megapixel quindi è più grande di quello che vi serve per quanto riguarda la risoluzione non dovrebbero esserci particolari problemi ovvio che la risoluzione non è tutto la risoluzione non è la qualità quindi questa è un'indicazione di base minima Airbnb sta dicendo non mi date un franco bollo piccolo così datemi delle foto che siano quanto meno adatte a una risoluzione web comune quindi non ci sono problemi perché qualunque telefono produce immagini di quel tipo se avete una macchina fotografica o se chiamate un professionista ci sono ancora meno problemi perché ve le darà così grosse che bisognerà rimpicciolirle ora veniamo a qualcosa di un pochino più dettagliato perché il catalogo di Airbnb fa riferimento alla valorizzazione dello spazio quindi ovviamente dobbiamo cercare di mettere in luce quelli che sono i punti forti dell'abitazione che vogliamo andare a proporre per cui l'esempio principe che c'è sul catalogo di Airbnb è se avete un caminetto fate vedere un dettaglio del caminetto è ovvio cioè se abbiamo una cosa molto bella in casa se abbiamo dei capitelli corinzi che adornano l'ingresso facciamo vedere che abbiamo un bel ingresso perché qualcuno potrebbe scegliere la nostra abitazione proprio per quel motivo magari uno non vuole l'abitazione per dormirci ma vuole l'abitazione per ospitare un meeting di uomini d'affari che si riuniscono in concomitanza dei giochi olimpici del 2026 26 vero? mi ricordo più l'anno magari è quello il caso e quindi uno dice voglio una residenza un po' bellina magari un po' regale quindi se ci sono delle cose particolari un camino degli abbellimenti delle decorazioni magari una collezione di quadri ecco se avete i quadri di profondo rosso appesi alle pareti anche no però se avete dei quadri leggeri comunque di design magari che rendono la casa ariosa questi sono dettagli che vale la pena valorizzare così come se avete magari delle soluzioni di arredo particolari la pianta piuttosto che i vasini piuttosto magari che le lucine appese le lucine dentro nei barattoli cose di questo tipo sono tutte cose che vanno ad abbellire l'abitazione e sono un plus anche per chi la va ad affittare perché comunque può non fregargliene niente però potrebbe anche determinare invece la sua scelta di affittare proprio la vostra quindi già che siamo lì già che stiamo facendo questo lavoro vale la pena secondo me dedicare un po' di tempo a questi aspetti passiamo alle caratteristiche di accessibilità è importante mettere in evidenza poi ci saranno anche ci sarà anche una sezione dedicata nel testo ovviamente ci sarà una parte testuale dedicata a questo ma è importante mettere in evidenza quella che è l'accessibilità dell'abitazione quindi per accessibilità si intende banalmente c'è l'ascensore e questo ovviamente ci sarà una sezione in cui si spunterà sì ascensore presente però se riusciamo anche a farlo vedere se riusciamo a far vedere in particolare una fotografia del pianerottolo questa è una cosa che io faccio sempre fotografia del pianerottolo perché col pianerottolo io ti faccio vedere anche la scala poi dipende dal pianerottolo da come è disposto però tendenzialmente ti faccio vedere la scala com'è disposta com'è l'ingresso dell'abitazione perché la casa può essere bellissima dentro ma poi può essere in un suc e quindi fuori può essere una cosa devastante e da lì uno decide che non gli piace la zona invece se ovviamente se abbiamo un bel ingresso perché ricordatevi che è sempre una questione di marketing quindi se l'ingresso fa schifo se il pianerottolo fa schifo forse è meglio se non lo facciamo proprio vedere però se invece è carino valorizziamolo facciamo vedere l'ingresso facciamo vedere l'ascensore sul pianerottolo così con un singolo scatto gli stiamo dicendo l'ingresso è carino c'è l'ascensore ci sono le scale tutto quanto molto semplice ovviamente queste sono cose che vengono meglio se stiamo usando una macchina fotografica perché la macchina fotografica ci permette di variare la focale senza rinunciare alla qualità quindi senza caduta qualitativa se stiamo usando un cellulare possiamo fare tutte queste cose lo stesso però anche se abbiamo le tre camere magari di un iPhone 12 Pro di un iPhone 13 Pro di un Oppo di un adesso quasi tutti i telefoni hanno 28 milioni di camere se anche abbiamo la tripla camera e quindi stiamo usando il grand'angolo magari ci serve una misura intermedia se usiamo lo zoom stiamo andando in digitale quindi l'immagine viene ricampionata e perdiamo un po' di qualità per cui sempre meglio tenere la focale fissa anche sul cellulare quindi senza fare zoom avanti e indietro ma semplicemente selezionando la lente che usiamo lo vedremo più avanti ora va anche detto che Airbnb Scopro sul sito mette anche a disposizione un servizio per cui sono loro stessi a procurarti un fotografo che venga a realizzare questo lavoro con delle tariffe che credo siano più o meno fisse nel senso che sarà Airbnb a fornire una tariffa ai fotografi e ne troverà uno disponibile in zona in maniera tale che sia comodo vero anche che è possibile realizzare le foto in altra maniera come per esempio contattando un fotografo che conosci già se conosci già un fotografo che ti ha già fatto dei lavori è possibile che strappi un prezzo migliore rispetto a quello di Airbnb che verrebbe solo quella volta quindi anche questo è da valutare è anche possibile realizzarsi le foto in autonomia perché se noi abbiamo una fotocamera qualsiasi siamo comunque in grado di realizzare gli scatti della nostra abitazione se abbiamo un cellulare qualsiasi siamo comunque in grado di realizzare gli scatti della nostra abitazione intendiamoci con questo non intendo darmi la zappa sui piedi e dirvi che non dovete chiamare me per farvi le foto o non dovete chiamare un fotografo professionista per farvi le foto quello che dico è semplicemente che non è necessario se volete il massimo della qualità se volete un servizio fotografico che vi faccia stare sopra a tutti gli altri allora chiamate un fotografo professionista e ne chiamate uno che sia bravo a fare foto di interni attenzione perché se chiamate a farvi le fotografie dell'appartamento un matrimonialista uno che fa battesimi uno che fa cresime sì magari le farà meglio di voi certo perché comunque è abituato a lavorare con una strumentazione di un certo tipo la sua fotocamera avrà già più risoluzione e più qualità del vostro cellulare quindi già le farà meglio però potrebbe non farle altrettanto bene di un fotografo che invece fa solo quello o comunque che fa tante fotografie di interni per esempio io mi rendo conto che sono molto più bravo a fare foto di interni di quanto non lo sia a fare matrimoni sono molto più bravo a fare foto di interni perché? perché ne ho fatte di più perché di matrimoni in vita mia ne ho fatti sette mentre di fotografie di interni l'avrò fatto cinquanta volte quindi ovviamente l'attenzione le prime che ho fatto facevano schifo erano terrificanti e adesso andremo a vedere gli errori principali che ho fatto e come si possono evitare allora errore numero uno scattare a mano libera purtroppo questa è una questione che spesso viene sottovalutata ed è una cosa che non sempre si può fare parlo con diverse persone che mi dicono proprio questo ma diverse persone che mi dicono io non riesco a scattare col cavalletto perché non ho tempo perché il cliente non mi lascia il tempo di farlo è vero succede anche a me che il cliente mi dica guarda devi entrare e uscire in mezz'ora e dico guarda in mezz'ora col cavalletto io non riesco a fartele perché ci vorrebbe un'ora e mezzo col cavalletto quindi se io devo essere dentro e fuori in mezz'ora te le faccio a mano libera con tutto questo con tutto quello che questo comporta perché se te le devo fare a mano libera significa che non farò il bracketing per esempio significa che farò un'esposizione più corta perché non posso stare in posa il tempo necessario e quindi significa probabilmente che avremo iso più alti e un'apertura inferiore di solito per fare una buona fotografia di interni si scatta a iso 100 e a f8 quindi con queste impostazioni siamo a posto sempre regoliamo i tempi in base a quella che è la scena in maniera da avere l'esposizione che vogliamo in scena non vi dico di usare sposimetri o cazzabubole simili perché secondo me l'esposimetro è la rovina in un contesto come questo facciamo un'esposizione di un certo tipo siamo convinti che vada bene e invece è sbagliata dobbiamo guardare dobbiamo capire leggere la scena e guardare l'istogramma piuttosto che l'esposimetro in un contesto come questo l'esposimetro lasciatelo a casa prima cosa secondo me è usare il cavalletto perché il cavalletto ci consente di utilizzare i parametri giusti i parametri che ci consentono di mostrare un lavoro professionale se io scatto col cavalletto faccio il bracketing ho la mia fotografia HDR quindi riesco ad avere un bilanciamento meraviglioso tra luci e ombre che non riuscirei ad avere con un singolo scatto questo si può fare solo su cavalletto riesco ad allungare l'esposizione anche questo si può fare solo con cavalletto e questo a catena la gente pensa che il cavalletto serva solo a fare le foto nitide quindi dice ma io le faccio nitide anche a mano libera chi se ne frega sbagliato sbagliatissimo le foto nitide le facciamo tutti a mano libera non è quello il problema il problema è che senza cavalletto non riusciamo a fare l'HDR non riusciamo ad allungare i tempi di posa e quindi dobbiamo alzare gli ISO quindi foto più brutta e quindi dobbiamo riaprire il diaframma non possiamo più scattare a F8 e quindi avremo la profondità di campo ridotta queste sono tutte cose che ci fanno tirare fuori un prodotto non professionale queste sono foto che il cliente comunque chi sta a casa potrebbe farsi da solo quindi se chiamate un professionista che vi fa un lavoro fatto male o ve lo fa di fretta senza treppiede sappiate che avete perso soldi perché potevate farvelo da solo veniva non dico meglio ma eravamo lì perché un lavoro fatto senza cavalletto non è professionale in un ambito come questo quindi capita anche a me di farlo senza cavalletto io dico al cliente guarda che sarebbe meglio farle col cavalletto se no non hai la stessa cosa risposta del cliente va bene usare il cavalletto e io lo uso risposta del cliente non ho fretta cavoli tuoi io ti ho avvisato qui te l'ho detto ho un testimone nella maggior parte dei casi ho un testimone e quindi sono cavolacci tuoi io ti ho avvisato poi io ti faccio le foto senza cavalletto non ti vanno bene ma per me va benissimo mi paghi un'altra volta esco di nuovo ci metto un'altra ora e mezza e te le rifaccio io sono solo contento se mi chiamate due volte però preferisco evitare se posso cioè lo dico subito patti chiari mi paghi una volta sola ti do il lavoro giusto una volta sola preferisco anch'io scattare con luce diurna l'abbiamo già detto accendere tutte le luci l'abbiamo già detto un'altra cosa che va detta è di gestire oculatamente l'orario in cui si va a scattare è meglio evitare lame di luce che penetrino dalle finestre e vadano a creare delle zone di contrasto troppo accentuato all'interno della nostra fotografia quindi se scegliamo bene il momento della giornata non avremo questo problema se capita che durante lo shooting ci entra una lama di luce possiamo arginare il fenomeno perché per esempio a me capita molto spesso di chiudere le tende se non ho lame di luce che penetrano posso tenere le tende aperte e sperare con un bracketing da tre stop di portarmi a casa l'esposizione corretta sia per il fuori che per il dentro se non ci riesco spesso e volentieri faccio un ritaglio delle finestre e incollo un cielo che fotografo fuori con un'esposizione diversa lo incollo fuori questo dà un effetto più gradevole però dovrei riuscire nella maggior parte dei casi con un bracketing a tre stop quindi con una fotocamera moderna perché fotocamere tipo la mia 5D Mark II non la fa questa cosa arriva massimo a due stop se andiamo su una fotocamera molto moderna come la Canon EOS R con cui sto riprendendo in questo momento lì abbiamo la possibilità di fare mi sembra fino a 5-7 scatti quindi lì non c'è più problema facciamo un bracketing da 5 scatti da 2 o 3 stop ci copre tutta la scena ovviamente più foto facciamo più tempo ci metteremo ad assemblarle quindi dobbiamo anche calibrare bene in base al cliente in base a quanto ci vogliamo mettere perché se il cliente ci ha dato 300 euro va bene ci prendiamo la giornata per fargli la post produzione se il cliente ci ha dato 20 euro e una nocciolina dobbiamo essere più rapidi perché sennò siamo in perdita capite cosa voglio dire se invece ve le state facendo da soli prendetevi il tempo che volete perché a quel punto è vostra fate tutte le foto che volete e la consegna slitterà nella misura in cui avete prodotto più o meno immagini ovviamente altra cosa acquistare extra attenti sono le linee cadenti ovviamente nel momento in cui noi andiamo a scattare una foto se avete mai tenuto in mano in vita vostra una rivista di architettura o se avete mai tenuto in mano il vostro cellulare scrollando su un feed di architetti o di interior designer avrete notato che le linee verticali sono dritte in una maniera irreale e questo perché sono corrette o in lente o in post produzione ci sono due modi per avere questo effetto il primo è usare una lente tilt and shift sono delle lenti particolari dedicate alla fotografia di interni di architettura le si può usare per quello che si vuole ma sono pensate per questo per raddrizzare le architetture in camera hanno un sistema che fa basculare la lente per cui abbiamo una correzione ottica direttamente in camera questo è il modo migliore per avere un'immagine con le linee verticali dritte è il modo migliore perché è ottico per cui è il nostro vetro che si muove e che ci dà l'immagine giusta è proprio come se stessimo zoomando con il barilotto di un obiettivo nel momento in cui noi utilizziamo una correzione ottica abbiamo la massima qualità possibile viceversa se andiamo a realizzare una correzione digitale quindi abbiamo fatto la nostra foto storta e andiamo a fare una correzione digitale sì riusciamo a raddrizzarla però succedono due cose la prima cosa è che andiamo a strecciare la nostra immagine andiamo a tirare i pixel sui lati per andare a raddrizzare le linee che sono storte e quindi perdiamo un po' di qualità perdiamo un po' di nitidezza perché un pixel strecciato non è più quello di prima non è più nitido come prima la seconda cosa è che andiamo a perdere parte della nostra immagine perché se abbiamo scattato un fotogramma che comprende quest'area però le linee sono storte in questo modo io devo prendere la parte alta della linea storta e portarla a misura parimenti devo fare dall'altra parte questo significa che le informazioni che stavano qui e le informazioni che stavano qui vengono spinte fuori dal mio fotogramma per cui per raddrizzare queste linee io ho perso quello che prima c'era qui questo è un peccato perché si poteva evitare nella maggior parte dei casi noi siamo in grado semplicemente posizionandoci giusti in camera di tenere le linee dritte questo si fa semplicemente mantenendo il nostro barilotto parallelo al terreno perché noi dobbiamo avere il piano focale perpendicolare alle pareti in questo modo più o meno ovviamente non è necessario stare lì con il microscopio laser per fare questa cosa si fa a mano e riusciamo a ottenere un risultato che abbia delle linee più dritte possibile vi dico per esperienza che il modo migliore di avvicinarsi al risultato è di posizionare la camera andate a vedere diciamo tra un metro e un metro e sessanta da terra un'oscillazione di quel tipo poi dipende da cosa c'è nella stanza perché se c'è un tavolo che è molto particolare ed è prominente nella scena vogliamo abbassare la nostra fotocamera per non tagliargli le gambe viceversa se abbiamo delle librerie una biblioteca una biblioteca con delle librerie molto alte alziamo la camera per non tagliare il sopra quindi dipende dalla scena che abbiamo però tra un metro e un metro e sessanta io di solito la tengo a un metro e cinquanta un metro e sessanta forse una cosa del genere ma dipende dalla scena a seconda della scena vi posizionate più o meno in quella posizione con il vostro cavalletto con il vostro treppiede posizionate la camera e a quel punto in camera in frame cercate di raddrizzare le linee cercate di non avere questo di non avere questo l'opposto e cercate anche di non avere questo perché se avete una linea dritta e l'altra storta bisogna raddrizzarla e vi assicuro che si può fare dipende tutto dal posizionamento quindi bisogna posizionare bene la nostra fotocamera una volta che avete imparato a farlo perché le prime volte direte delle parolacce mentre lo fate ma una volta che avete imparato a farlo vi verrà assolutamente naturale io ci metto sei secondi a fare la composizione per la fotografia di interni e la cosa bella oltretutto è che una volta che abbiamo settato il cavalletto per un'abitazione probabilmente quel setting va bene per tutta l'abitazione salvo casi strani magari poi si vuole fare un dettaglio più alto più basso un cestino un vaso che sta per terra piuttosto che un pensile che sta in alto lì sono altre cose però una volta che io ho settato l'altezza per un appartamento probabilmente andrà bene per l'intero appartamento quindi questa è una comodità in più di cui sicuramente possiamo avvalerci se stiamo scattando col cellulare probabilmente non avremo il cavalletto però attenzione perché col cellulare il cavalletto non serve infatti i nostri cellulari sono molto privilegiati da questo punto di vista perché innanzitutto perché hanno una profondità di campo infinita già di loro quindi non abbiamo il problema del diaframma sul cellulare il diaframma non esiste sostanzialmente quindi qualunque cosa facciamo avremo tutto il fotogramma a fuoco in questo caso è esattamente quello che vogliamo ovviamente non facciamo i polli non usiamo la modalità ritratto che sfoca lo sfondo perché andiamo a giocarci contro usiamo la camera più più wide che abbiamo il grand angolo più spinto che abbiamo per realizzare questi scatti e vi garantisco che sarà tutto a fuoco non avremo la possibilità di sfocare nemmeno se lo volessimo in secondo luogo i cellulari già hanno una esposizione a zone per cui se noi facciamo una scena dinamica con un interno e un esterno il cellulare probabilmente se la cava meglio della nostra fotocamera perché è fatto apposta perché è pensato per un pubblico non professionale non professionista per un pubblico che non ha tempo e sbatti di portarsi le immagini a casa e unirle in bracketing per fare la fotografia HDR per cui c'è già una parvenza di HDR incapsulata in tutte le foto che noi facciamo l'iPhone ha la funzione HDR dinamico io qualunque foto faccia è già HDR nel senso che l'iPhone in un nanosecondo io neanche me ne rendo conto espone diversamente le zone luminose e le zone d'ombra e mi mette insieme una foto che è già una fotografia HDR quindi è già una fotografia con più gamma dinamica di quella nativa questo con la fotocamera lo devo fare a mano il bello della fotocamera è che mi permette di fare quello che voglio io di gestire questi parametri di farli esattamente come voglio io e quindi se so quello che faccio verrà meglio però il bello del telefono invece è che te lo fa lui in automatico e quindi il telefono non sa cosa vuoi non sa cosa stai facendo tira a indovinare ha una serie di scene preconfigurate quindi di solito ci azzecca però tira a indovinare il bello però è che molte volte ci azzecca anche lui quindi le foto col telefono potrebbero anche venire molto molto bene ovviamente dobbiamo sempre stare attenti a quel fatto di tenere le linee verticali quindi in questo caso lo dobbiamo fare a mano ci posizioniamo e teniamo le linee verticali col telefono è più facile che con la camera perché il telefono è più stretto la nostra fotocamera è lunga perché avrà un obiettivo che sporgerà in fuori e non so se vi è mai capitato di sparare però sparare con un fucile o sparare con una pistola è diverso perché se io sparo con una pistola la pistola ha la canna più corta e quindi il mio errore la mia imprecisione sì c'è però è di meno se io faccio un grado di imprecisione sulla pistola magari il bersaglio lo centro lo stesso se io faccio un grado di imprecisione sul fucile ammazzo uno che sta passando dietro in moto cioè la differenza è molta di più quindi il cellulare che è piatto è più facile da posizionare rispetto alla fotocamera che è lunga questo è un dato proprio fisico che ci segue fin dai primi archibugi quindi è una cosa che trovate anche sui libri di storia volendo e riscontrerete che è vero proprio facendo la prova se voi provate a fare la composizione con la fotocamera e provate con il cellulare vedrete che col cellulare è molto molto più facile anche perché è più leggero perché si scatta subito perché in un attimo è fatta e avete già la foto pronta è finita sul vostro telefono ovviamente tutte le raccomandazioni che ho fatto valgono sia per la macchina fotografica che per il cellulare quindi mettete in ordine accendete le luci state attenti alla gamma dinamica che c'è tra il dentro e il fuori quindi se avete una casa buia e fuori è molto luminoso magari tirate la tenda per bilanciare accendete le luci dentro sempre per bilanciare cercate di avere la scena più gradevole possibile ovviamente l'obiettivo è far sì che la gente gradisca la vostra abitazione e decida di affittarla quindi meglio la presentate e meglio è cercate di pulire se è una cosa diciamo seria se volete proprio affittare quell'abitazione per avere una rendita rimbiancata la fate dare una sistemata sono tutte cose che sicuramente giovano nel momento in cui la dovete affittare perché un cliente queste cose le guarda per cui se in casa vostra c'è appena stato un delitto e ci sono le macchie di sangue sul muro non fate le foto così buttate soldi poi vi rendete conto che nessuno ve l'affitta le dovete rifare quindi date una sistemata prima ora io vi ho parlato di quello che riguarda la realizzazione del servizio fotografico per un'abitazione con il target di Airbnb vi devo dire a onor del vero che non ho la minima idea di come sia il processo di caricamento di queste immagini sono abbastanza convinto che Airbnb accetti il formato che gli viene dato quindi delle fotografie in JPEG con un profilo colore sRGB quindi adatto per il web secondo me vengono accettate indipendentemente dalla dimensione devono essere superiori come dicevamo a 1024x683 pixel quindi devono avere una certa dimensione però sopra quella certa dimensione secondo me vengono universalmente accettate la procedura mi dicono clienti che la stanno facendo mi dicono essere un po' tortuosa un pochettino lunga da sbrigare a livello burocratico proprio a livello di permessi a livello di a livello di verifica dell'account della persona che affitta a livello di verifica delle impostazioni dei pagamenti dell'account bancario mi dicono essere un po' lunga la cosa parliamo un attimino della post produzione prima di andare in pubblicazione queste immagini ovviamente devono essere trattate un pochino non si possono prendere e sbattere fuori così se abbiamo fatto il nostro bracketing andiamo a unirle in HDR come ho già fatto vedere in tanti video ve ne linko uno in card per farvi vedere bene la procedura è molto molto semplice si uniscono le fotografie in HDR direttamente da Camera Raw o da Lightroom o da qualunque software stiate utilizzando e avremo automaticamente una foto che sarà la somma delle nostre foto in bracketing e quindi otterrà più informazioni sarà più bella avrà una gamma dinamica e tonale più figa rispetto alla foto singola molto molto più bella da vedere se la trattiamo correttamente se stiamo usando Camera Raw devo dire che ci sono le impostazioni automatiche che io lascio sempre abilitate che ci azzeccano quasi sempre io lascio le impostazioni automatiche mi fa il Merge to HDR con le impostazioni automatiche io poi devo solo spostare due cosine perché di solito ci prende me le fa quasi giuste subito vi ho detto di tenere le linee verticali dritte ma non sempre ci si riesce perché poi spesso le architetture non sono dritte un palazzo si assesta nel tempo quindi magari è storto di suo per cui io cerco di stare dritto in camera ma a volte non ci riesco a volte c'è una lieve correzione da fare quindi andiamo a correggere la prospettiva all'interno del nostro software tutte queste modifiche le facciamo sul RAW ovviamente sul file RAW nativo della nostra fotocamera perché se facciamo così avremo una caduta qualitativa inferiore se lo facciamo sul JPEG o sulla foto fatta col cellulare per esempio avremo una caduta qualitativa maggiore si rovinerà di più l'immagine per la stessa modifica faremo la stessa modifica ma sul cellulare si rovinerà molto di più la foto quindi anche per questo è importante saperlo se io mi affido a un professionista avrò comunque delle immagini più belle perché le micro lavorazioni che dovrà subire il file non si vedranno mentre sul cellulare non è che si vedranno saranno così palesi però ne risente di più quindi visto che vogliamo la massima qualità perché ci sono soldi dietro intendiamoci cioè io affitto la casa ci guadagno quindi per guadagnare bisogna prima investire per cui è meglio è meglio proprio ai fini delle vostre entrate da quell'abitazione affittata è meglio farsele fare bene le foto se noi andiamo a usare il pannello geometri anche qui vi linko un video in card per farvi vedere il procedimento se noi usiamo il pannello geometri riusciamo a correggere quelle micro imperfezioni sulle linee verticali ovviamente se le nostre linee verticali sono completamente cannate la nostra correzione dovrà essere più invasiva e avremo una caduta qualitativa maggiore e una perdita di pixel maggiore se il nostro errore è pochissimo infinitesimale siamo come me siete fanatici la volete perfettamente dritta perché poi si diventa così e poi le guardi dici che porcata l'ho lasciata storta allora dopo le corregi tutte è giusto correggerle tutte noi dobbiamo dare il risultato migliore possibile se lo scarto è minimo se abbiamo sbagliato di pochissimo è ininfluente non c'è una vera caduta qualitativa e non c'è una vera perdita di pixel si perdiamo 10 pixel sul lato e caduta qualitativa è pressoché inesistente quindi questo è il modo corretto di lavorare questa cosa si può fare anche sulle foto da cellulare perché si può fare solo che su molti cellulari avremo una distorsione del barilotto molto evidente quindi avremo proprio le linee dei muri che curvano un pochino che diventano bombate io questo l'ho riscontrato per esempio sull'iPhone 12 Pro l'iPhone 12 Pro sul grand'angolo curva tanto ha proprio i muri che curvano ed è un effetto molto sgradevole ed è difficilissimo poi da sistemare perché un conto è una linea storta a un conto è una linea curva quello diventa un po' complicato da sistemare e lì perdiamo comunque tanti pixel quindi di nuovo se ve lo fate fare da un professionista con una macchina fotografica o se avete voi una macchina fotografica o un amico il cugino con la macchina fotografica è comunque meglio perché andremo quantomeno a non avere questa problematica di molti grand'angoli dei cellulari che comunque distorcono parecchio poi magari avete una lente che distorce anche quella se avete un fisheye è un disastro quindi dipende anche dalla lente però di solito una macchina fotografica distorce meno di un cellulare perché le lenti costano cioè una lente della mia macchina fotografica costa più di un iPhone quindi è strutturata meglio rispetto al lentino piccolo così che è solo una componente di un iPhone di solito la lente performa meglio del cellulare questo è pacifico bene io credo che abbiamo speso abbastanza tempo sviscerando tutti i dettagli di quello che può essere uno shooting per Airbnb manca solo una cosa che ho lasciato volutamente alla fine perché non attiene prettamente alla fotografia di interni stiamo infatti parlando di fotografia di esterni sì perché spesso e volentieri vediamo sul sito di Airbnb che ci sono delle immagini anche degli esterni ora è bene far vedere gli esterni se ne vale la pena ovviamente perché se viviamo in un quartiere malfamato e fuori dalla nostra finestra c'è una discarica di lamiere da una parte e un'auto in fiamme dall'altra forse è meglio se non la facciamo viceversa se abbiamo un bel vicinato e se è una bella giornata facciamo magari una foto dal balcone per far vedere quella che è la vista dalla finestra questa può essere una bella cosa da far vedere così come anche facciamo vedere gli spazi esterni facciamo vedere balconi terrazzini se ci sono facciamo vedere tutta quella che è la superficie calpestabile compresi i balconi se ci sono è un plus non da sottovalutare il fatto di avere un balcone e facciamo anche vedere qualche dettaglio del quartiere quindi per esempio se è una via piena di negozi se è una via che magari la sera si illumina dico una stupidata se siamo in Corso Buenos Aires e mettiamo una foto di Corso Buenos Aires la sera con tutte le luci i negozi le macchine che passano far vedere che è un quartiere vivo che non è un tugurio in una zona malfamata anche questo può avere la sua importanza ovviamente non è obbligatorio è meno importante di tutto quello che ci siamo detti prima ed è forse la cosa più facile da fare perché in esterno valgono lo stesso tutte le regole che abbiamo detto vale lo stesso che bisognerebbe tenere le linee dritte vale lo stesso che bisognerebbe usare il cavalletto per fare hdr bracketing e quant'altro e per avere l'esposizione più corretta possibile mantenendo certi parametri valgono sempre tutte queste cose però diciamo che in esterna si può anche stare un pochino più di manica larga basta sempre rispettare i parametri della risoluzione non facciamo proprio delle porcate di immagini tutte storte vietati gli orizzonti storti vietate le linee tutte accasciate cerchiamo comunque di stare un po' dritti un po' puliti queste però sono probabilmente le più facili da fare anche con cellulare perché comunque le foto in strada di solito vengono meglio col cellulare piuttosto che con la macchina fotografica è più facile perché il cellulare è pensato per fare foto a caso in strada gli amatori le persone comuni fanno foto a caso in strada quindi il cellulare è pensato per quello la macchina fotografica è pensata per essere flessibile quindi vengono meglio subito col cellulare da quel punto di vista il cellulare ha un vantaggio quantomeno per le foto del quartiere in strada è sicuramente vantaggioso farle col cellulare non dico di farvele da soli se avete chiamato un professionista gliele chiedete direttamente a lui però sappiate che se ve le state facendo da soli andate abbastanza tranquilli anche col cellulare con questo io credo di avervi detto veramente tutto perché per quella che è la mia esperienza se seguite questi step vi portate a casa comunque un buon servizio fotografico ci possono essere dei fotoritocchi da fare su cose che non vanno bene nella stanza ci sono delle cose che si possono sistemare dopo la prospettiva ne abbiamo parlato ovviamente lo sviluppo digitale quindi l'esposizione le alte luci le ombre ci sono delle cose che si possono sistemare in post ma è veramente poca cosa perché si cerca di fare quasi tutto giusto in camera direttamente questo sia perché viene meglio sia per risparmiare tempo dopo se dovete realizzare un servizio fotografico di questo tipo se avete chiamato un professionista o se lo state facendo da soli col cellulare o con la fotocamera provate a seguire questi accorgimenti è difficile che il lavoro venga peggio che se aveste fatto di testa vostra se seguite questi semplici step probabilmente vi ritroverete con un risultato se non professionale decisamente passabile e questo ovviamente sarà un vantaggio su chi invece se l'è fatto da solo senza tener conto di tutte queste regole auree che sono da sempre i cardini della fotografia di interni quindi valgono anche nel momento in cui facciamo le foto per Airbnb a questo punto lasciatemi sapere in un commento qual è la vostra esperienza avete chiamato un professionista siete soddisfatti o siete rimborsati o ve lo state facendo da soli o ve lo siete già fatto da soli come sono venute siete contenti o avreste preferito affidarvi a un professionista come sono i prezzi dei professionisti in questo settore io i miei in pubblico non ve li dico però conosco i prezzi che fanno diversi i miei competitor conosco i prezzi che fanno le agenzie soprattutto le agenzie immobiliari spesso sono competitivi certe volte non lo sono molte volte si trovano anche delle sole fatemi sapere in un commento qual è la vostra esperienza sarò lieto di rispondere a tutti quanti perché i commenti visto che sono ancora pochini li leggo tutti non abbiate timore di commentare io leggo sempre tutto a questo punto iscrivetevi anche al canale perché se vi ha interessato questa puntata vi ricordo che ci sono anche diversi video che ho già fatto sulla fotografia di interni tra cui una guida dettagliata dove troverete ancora più informazioni ve la link ovviamente in card ci sono video anche sulla strumentazione che è stata utilizzata in particolare per questo shooting io ho utilizzato la mia Canon EOS 5D Mark IV quindi una bella fotocamera e in più ho utilizzato la 6D con un'altra lente per avere un pochino di versatilità avrei potuto usare una camera sola tranquillamente però per essere tranquillo e poter fare cose un po' diverse ho portato una seconda camera con una seconda ottica comunque questo che vi ho fatto vedere nel corso del video è il risultato di uno shooting fatto comunque con una fotocamera full frame se andate a realizzare la stessa cosa con un cellulare non esito a dire che non avrete la stessa gamma dinamica e tonale non avrete la stessa definizione magari avrete la stessa risoluzione perché adesso ci sono cellulari che hanno 24 miliardi di megapixel quindi magari a risoluzione saremo anche pari però per qualità non c'è paragone ovviamente quindi la qualità si paga la mia fotocamera costa come camera più lente costa come 6 iPhone 13 e quindi ovviamente avremo una qualità maggiore perché è un'attrezzatura dedicata mentre l'iPhone fa 100 cose tra cui le foto quindi non le fa bene uguale queste sono tutte cose che è bene tenere a mente io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao